Sono Paolo Battistel, sono un consulente, mi occupo di serre, di coltivazioni protette, soprattutto fuori suolo, non solo in Italia ma in vari paesi del mondo. Ho accettato volentieri questo invito della Top Seeds Italia per parlare di porti innesti in questo incontro in Sicilia, in quanto è ancora poco diffuso nel nostro paese questo metodo, questa pratica, mentre ha tantissimi vantaggi, migliora la produzione, ovviamente permette alla pianta, alla cultura di resistere meglio ai patogeni radicali, ma soprattutto dovrebbe essere adottato dagli agricoltori perché permette maggiori prestazioni, maggiori rese e maggiore qualità del frutto, del prodotto e quindi si spera anche prezzi migliori e di conseguenza alla fine un reddito migliore. In paesi all'estero dove lavoriamo molto, tipo Marocco, Turchia, che hanno caratteristiche simili alla Sicilia come clima, come colture, ormai l'innesto rappresenta il 100% del mercato e quindi sono venuto qui a parlare volentieri per spiegarvi i vantaggi in quanto, secondo me, dovrebbe essere adottato su scala maggiore dagli agricoltori, dai serricoltori siciliani in particolare. Stiamo usando anche noi dei porti innesti presso i nostri clienti della Top Seats e abbiamo riscontrato, oltre che prestazioni migliori, anche un equilibrio migliore delle piante, quindi alcune operazioni colturali, tipo la potatura, risultano facilitate e abbiamo riscontrato appunto un equilibrio più facile da raggiungere durante la coltivazione. Io mi auguro che questo incontro sia servito ad alcuni tecnici che hanno partecipato numerosi ad essere più coscienti appunto dell'importanza di innestare le piante perché fino ad oggi non abbiamo trovato nessuna controindicazione. Grazie a tutti.